Cari amici, il 2019 dovrà essere l'anno della verità, della presa di coscienza della verità. Il maggior numero possibile di italiani dovrà conoscere la realtà dei fatti. I fatti sono fatti, non sono né di destra né di centro né di sinistra. I fatti sostanziano la realtà della verità che non è né ideologica né faziosa né ingannevole. I fatti e la realtà della verità vanno accettati da tutti perché sono oggettivi, assoluti e universali. È certo che viviamo in un'epoca buia di profonda decadenza della nostra civiltà laica e liberale, dalle radici ebraico-cristiane, greco-romane, umaniste e illuministe. Abbiamo perso la certezza e l'orgoglio di chi siamo sul piano delle nostre radici, identità, valori, regole e leggi. Abbiamo trasformato la nostra casa comune, la nostra amata Italia, in una terra di nessuno, dove chiunque può entrare, scorazzare e uscire liberamente e impunemente, con la conseguenza che gli stranieri si comportino come se fossimo una terra di conquista. Non abbiamo più punti di riferimento che corrispondano alla certezza a cui aderire, alla verità in cui credere, all'autorità da rispettare. Consentiamo agli stranieri di trattarci con arbitrio, arroganza e violenza. In parallelo, registriamo il declino degli italiani a tutti i livelli. La realtà in assoluto più grave è il tracollo demografico. Gli italiani hanno cessato di fare figli e sono destinati a estinguersi come popolazione. Mentre l'Europa è l'area del mondo che ha il più basso tasso di natalità, l'Italia è il paese europeo che ha il più basso tasso di natalità. Siamo, secondi solo al Giappone, il paese più anziano al mondo. Ogni anno perdiamo circa 250.000 italiani. Di fronte a questa primaria emergenza epocale, lo Stato fa poco e comunque opera in modo insufficiente rispetto all'imperativo di porre un argine a questo suicidio-omicidio demografico e promuovere la crescita della natalità degli italiani. La Chiesa di Papa Francesco ha aderito alla strategia globalista che promuove la sostituzione etnica degli italiani, con una umanità omogeneizzata e omologata, abbattendo le frontiere nazionali e le identità localistiche, favorendo l'accoglienza incondizionata e illimitata dei cosiddetti migranti, erigendola a nuovo dogma della Chiesa e santificando i migranti, identificandoli in Gesù Cristo. In questo contesto la Chiesa di Papa Francesco ha rinunciato deliberatamente alla sua missione di evangelizzazione, mette sullo stesso piano le religioni, ha legittimato l'Islam e promuove la sua diffusione attraverso la proliferazione delle moschee. Così come stiamo subendo, il crimine epocale, che vede l'Italia ricca ridursi in italiani poveri. Dagli anni Ottanta in poi, con l'avvio della perdita della sovranità monetaria, privatizzando la banca centrale, con la svendita delle grandi imprese dello Stato e dei grandi marchi delle aziende private, e successivamente il colpo di grazia con l'adozione dell'euro, l'adesione ai parametri finanziari europei, la finanziarizzazione dell'economia, il ceto medio, si è sempre più assottigliato. Le micro e piccole imprese sono condannate a morire. Le famiglie sopravvivono con crescenti difficoltà, oberate da un debito perpetuo. I popoli possono essere sottomessi, o con i carri armati o con l'arma del debito. Noi italiani siamo di fatto sottomessi a una dittatura finanziaria, globalista ed eurocratica, che ci obbliga a vivere per ripianare un debito che è inestinguibile, contratto principalmente nei confronti di uno Stato onerosissimo, ladrone, corrotto, inefficace e aguzzino, che ci impone il più alto livello di tassazione al mondo, e nei confronti delle banche che praticano un'usura legalizzata e operano al di sopra della legge. Il contesto che ci obbliga a una vera e propria schiavitù finanziaria è quello imposto dallo strapotere della grande finanza speculativa globalizzata, che detiene un ammontare di titoli derivati, denaro virtuale, frutto della speculazione finanziaria, stimato in 2,2 milioni di miliardi di euro, vale a dire 33 volte il PIL mondiale. Nei soli 28 paesi dell'Unione europea l'entità dei titoli derivati è stimata in 660 trilioni di euro, ovvero 660 mila miliardi di euro, pari a 43 volte il PIL europeo, cioè 43 volte l'ammontare del valore dei beni e dei servizi prodotti nei 28 stati dell'Unione europea, che è di 15.326 miliardi di euro. Ebbene, cari amici, nel 2019 dobbiamo combattere su un fronte culturale per acquisire e diffondere informazione corretta. L'obiettivo è di fortificarci dentro, recuperando la certezza di chi siamo e riscattando i valori che sostanziano la nostra civiltà. Da parte nostra faremo tutto il possibile. Dal primo gennaio vi informerò sulle iniziative che intraprenderò. Chiunque sarà interessato a parteciparvi sarà il benvenuto, in un contesto di chiarezza sulle idee, di certezza sui valori, di determinazione sul conseguimento della prospettiva che si può riassumere in tre concetti. Civiltà umana, Italia sovrana, italiani liberi. Il 2020 sarà l'anno della mobilitazione e il 2021 sarà l'anno dell'azione. Cominciamo con il liberarci dalla menzogna e conquistando la verità. Proseguiremo con l'affrancarci dalla sterile denuncia fine a se stessa e promuovendo una mobilitazione costruttiva. Infine, passando dalle parole ai fatti, realizzeremo il traguardo della rinascita della civiltà umana che mette al centro la persona, la famiglia naturale, la comunità locale, l'economia reale, la cultura della vita, l'educazione fondata su valori e regole, diritti e doveri. Il traguardo del riscatto della sovranità dell'Italia sul piano monetario, economico, legislativo, giuridico, della sicurezza e difesa, alimentare, energetico e informatico. Il traguardo del recupero della libertà degli italiani. Nel febbraio 2022, scaduto il mandato di Sergio Mattarella, il nuovo Presidente della Repubblica dovrà corrispondere alla volontà della maggioranza degli italiani che manifesteranno direttamente, legittimamente, civilmente, pacificamente e democraticamente la determinazione ad essere pienamente noi stessi dentro casa nostra, tramandando ai nostri figli italiani i diritti inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà. Andiamo avanti, con la schiena dritta e a testa alta, forti di verità e con il coraggio della libertà. Insieme ce la faremo.